In passato è balzato alle cronache per rivelazioni scabrose sul suo passato all'interno della scuola di amici di Maria De Filippi Il giovane, omosessuale dichiarato, era stato cacciato dalla produzione per aver confessato di aver avuto dei rapporti sessuali nei camerini della scuola Mi sono comportato malissimo con il programma. Ho dichiarato di aver fatto sesso nei camerini e giustamente mi hanno chiuso le porte Lasciai tutto alla 4 edizione, aveva detto Valerio Pino, ex ballerino professionista del programma, e mi richiamarono alla 6 edizione Poi andai via nuovamente e dopo 4 anni per un motivo ben preciso ho deciso di tornare e la produzione mi ha accolto nuovamente Magari non me lo sarei meritato Poi ho continuato a comportarmi male. Non sono compatibile con la trasmissione. Dopo essersi trasferito a Madrid, aver sbandierato a mezzo stampa un suo flirt con Ricky Martin e dopo essersi fidanzato con un ragazzo venezuelano assieme al quale postava in rete filmati e foto molto piccanti, Valerio è tornato a far parlare di sì Punto ospite di Manila Goria ad Antenna Sud da Manila Gorio, l'ex ballerino di Amici ha confessato di aver avuto una stoia con un onorevole del Partito Democratico Mannaggia! Non facciamo nomi, ovviamente! Ha detto Valerio Pino, sì è vero. Io sono di sinistra come la Parietti, quindi il politico è di sinistra, non è un problema dire il partito È un onorevole del Partito Democratico. È una cosa successa.Due anni fa, è abbastanza passata come cosa Ora è scattato il toto nomi. Chi sarà l'onorevole con cui ha avuto una storia? Qualche settimana fa Valerio Pino aveva rilasciato un'intervista a Gossip It parlando del suo rapporto con Enrico Papi. C'era un'intesa speciale tra di noi, fatta di sguardi pieni di desiderio carnale e ormoni infuocati, facevamo l'amore con gli occhi aveva detto il ballerino Per sei mesi ci vedevamo quasi tutti i giorni. È mancato poco che finissi nel suo camerino, sarebbe successo il delirio Le dichiarazioni dell'ex ballerino di Amici avevano lasciato intendere che questo feeling fosse corrisposto anche da Enrico Papi che, però, aveva precisato in una lettera inviata ad Agospia Premesso che sono lusingato di quanto ha detto Valerio sono allo stesso tempo molto arrabbiato perché poteva dirmelo prima Ormai è tardi. Ha ironizzato il conduttore Scherzi a parte vorrei brevemente provare a spiegare, utilizzando la mia passione per la musica Cosa penso riguardo ad un tema più ampio e perché questa intervista non mi recalco un disagio Anzi! Il fatto che un uomo possa provare delle sensazioni o attrazione fisica nei miei confronti non mi ha mai dato fastidio e non potrà mai rappresentare per me un problema o crearmi imbarazzo Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!